preso per noi ci vedremo qui domani per sistemare la questione del suo onorario allora aspetto sistemeremo tutto si si non mancherò grazie di tutto scusate dottore rivedere ma mi spia bene mi assieme di averla conosci o si è un giocante o mi compagno io ci vediamo domani carmelina carmelina capotto il cappello del signor notato grazie 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 nuovo signore arrivederci 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 signor peccato rivediamo se lo dà buonasera bene carabinina sono io ho vari ucchetti che non mi permettono di stare ancora qua ah e dovete portarmi quelle gocce per la pressione e domani non so se ci potremmo vedere ho un sacco di appuntamenti e poi devo assistere a una conferenza e allora dopo domani e no no domani non è possibile comunque mi riferisco a avere il contenuto buonasera buonasera buonasera